L'ultimo ciac è stato dato a Rivergaro, in Rival Trebbia. Il copione prevedeva il recupero di un cadavere dalle acque del fiume durante il periodo invernale. Stoici gli interpreti con l'abbigliamento pesante, nonostante le temperature estive. Il thriller poliziesco è intitolato Saturnales. Il riferimento è ai festeggiamenti in epoca romana durante il mese di dicembre, festeggiamenti che sovvertivano l'ordine sociale, come ci ricorda il regista Gianpaolo Saccomano, criminologo e fumettista. I Saturnali sono delle feste pagane che hanno sostituito il nostro Natale, sono dei rituali antichi, anche abbastanza cruenti, dedicati a Saturno. L'idea è nata dalla passione sfrenata che abbiamo tutti quanti per il cinema, ma in particolare dalla passione per il cinema thriller anni 70 italiano. Infatti cerchiamo di omaggiare un po' questa tendenza, questa scuola che ha prodotto grandi maestri come Dario Argento, Umberto Lenzi, Pupi Avati e l'idea è quella di ambientare una vicenda molto fosca, molto spaventosa, tenebrosa in una provincia, in una zona di provincia come quella del Piacentino e del Cremonese. Il film non ha scoppi di lucro, è stato realizzato con un budget ridicolo, ciò nonostante c'è stato un impegno da parte di tutti direi eccellente. Il film è una produzione indipendente di Alternative Studio, realizzato in collaborazione con For Cinema Accademia di Piacenza, diretta da Paola Dalladonna e Maria Piaconti. Saturnales è un thriller che ruota attorno a un'accademia d'arte dedicata al pittore spagnolo Francisco Goya, autore di un quadro Saturno con fanciulla che apparterebbe al ciclo delle inquietanti pitture nere. Non mancano serial killer, oscuri segreti e riti pagani dell'antica Roma. Gli interpreti principali sono Sara Pianforini, Antonino Patti e Mari Scaramella. Gli interpreti sono Giulia Dell'Ago, una studentessa di questa accademia d'arte ambientata appunto nel Piacentino, alla quale accade un triste fatto ad un'amica e lei inizierà ad indagare cacciandosi nei guai. Come è stato a girare? È stato molto bello, molto impegnativo, ma lo staff è molto unito, molto cordiale, preparato e ci ha reso le cose molto più facili. Tra gli interpreti anche i cremonesi Roberto Brambilla, nipote di Ugo Tognazzi, Roberta Clerici, Federico Garavelli, Lole Bocca Sasso e Mario Carotti. Noi con il Canovaccio portiamo i nostri attori sul set di Sacro Umano. Insomma avete girato a Piacenza? Abbiamo girato, ho girato a Piacenza, ho girato anche oltre Piacenza, non dico dove perché non bisogna dire nulla. Il mio personaggio? Il mio personaggio è un'insegnante di lettere antiche, Claudia Venturi, che si innamora di una studentessa e deve seguire le vicende di questa studentessa. Garotti, il suo? Io sono invece un rettore di un'accademia, mi chiamo Galvani, è un rettore molto particolare, però non posso svelare altro. Ecco, quindi è un thriller, è bello recitare un thriller. Un thriller molto misterioso, pieno di enigmi e veramente assolutamente da vedere perché è molto interessante. Va a sollecitare la sua passione per gli enigmi e i misteri? Allora questo sì, è confermato, quindi non si può mancare assolutamente la visione di questo film, è molto interessante. Scene difficili? No, insomma abbastanza, dipende un po', comunque grazie al nostro regista è stato molto condiscendente e abbiamo potuto realizzare tutto tranquillamente. È abbastanza scene difficili? Sì, posso dire, in una bara. Non svegliamo altro. Roberto Rastellini è il direttore della fotografia, ad Alberto Negri il ruolo di produttore esecutivo e aiuto regista. Abbiamo trovato un sacco di amici e le amministrazioni, le amministrazioni comunali, le amministrazioni pubbliche, la ASL stessa che ci ha dato veramente un supporto non da poco e quindi le location sono tantissime in provincia di Piacenza, quindi valorizziamo il nostro territorio. Vediamo il backstage dell'ultima scena girata in Trebbia, Rivergaro, anche con l'utilizzo di un drone. È stata una bella giornata, quindi perché è stata, penso, la giornata più calda in assoluto che abbiamo preso e abbiamo dovuto girare una scena come ha voluto giustamente il regista Saccomano, una scena invernale e abbiamo utilizzato, anche lì grazie sempre all'amministrazione pubblica, abbiamo avuto la possibilità di avere anche la polizia locale che ci ha dato una mano e abbiamo girato delle scene, una scena molto impegnativa con i sommozzatori sulle rive del Trebbia. Di solito certe cose accadono in po', questa volta abbiamo voluto valorizzare il Trebbia e soprattutto Rivergaro che è veramente una perla nella nostra Val Trebbia. Una produzione che si basa molto sulla passione e che comunque, attenzione, coinvolge decine di persone. Ma in una stima che abbiamo fatto con Giampaolo, tra attori, comparse, personale della truppa e tutti quelli che hanno collaborato, siamo sul centinaio di persone, quindi veramente è stato fatto con tanta passione, pochissimi soldi, ma la passione del volontariato è quella che ha spinto ancora una volta per riuscire veramente in un'opera, almeno per la nostra città penso unica. La prima di Saturnale si è prevista per martedì 31 ottobre al filo di Cremona.